Buongiorno, vi prego di scusare il ritardo. Oggi siamo un po' in ritardo e me ne dispiace sia perché può sembrare, anche se non è un gesto di scortesia, e poi abbiamo un po' di tempo in meno per il nostro lavoro, ma vedremo di essere pronti ad utilizzare bene il tempo che abbiamo. Buongiorno. Anzi, di concetti fondamentali del diritto pubblico e della politica insieme. E continueremo a parlare anche di grandi autori. Ieri un filosofo che non è stato degnato di molta considerazione fino al XIX-XX secolo, ma che nel XX secolo è diventato una specie di paradigma per buona parte della filosofia giuridica e politica. E oggi parliamo di un altro grande autore, di un giurista, questa volta, che ha avuto al suo tempo una fama immediata, che ha avuto anche una fama che è durata per un tempo abbastanza lungo, ma che poi si è ad un certo momento eclissata per riemergere nel Novecento. Ieri parlavamo di Hobbes, oggi dobbiamo parlare di Baudin, chi era costui. Credo che ieri, ringrazio, si sia riusciti a mettere su S3, sulla community online, una scheda. Non so se l'abbiate vista, l'avete vista, non l'avete vista, non l'avete vista, non l'avete vista nemmeno l'avviso che diceva che avreste potuto vederla, ma la troverete, la troverete e potrà esservi utile. E' l'unico modo per fornirvi di un profilo bio-bibliografico di questo grande giurista e insieme anche una succinta esposizione del contenuto dell'opera di cui oggi si parla. Perché il libro della dottoressa Di Bello è un libro che cerca di ricostruire la storia di un'opera, di un classico del pensiero giuridico e politico. La storia di un'opera, una storia complicata, senza la quale è molto difficile afferrare concetti che sono ancora nostri, ma che hanno un'origine, una nascita e una storia, una storia lunga. Il libro da cui è tratta la scheda è questo, è un titolo emblematico. Ci sono domande? Se ci sono domande sono pronto a fare già qualche risposta. Credo di non aver detto nulla che necessiti di una... Allora, il libro si intitola The Formation and Transmission of Western Legal Culture La formazione e la trasmissione della cultura giuridica occidentale ma ha un sottotitolo molto più esplicito 150 libri che hanno fatto 150 books that made the law in the age of printing i 150 libri che hanno costruito i 150 libri che hanno fatto il diritto nell'età della stampa quindi a partire dalla metà del XV secolo fino ad oggi e il libro prende in considerazione in rassegna opere opere nella storia del pensiero giuridico che vanno dagli inizi della stampa fino a noi ma soprattutto che prendono in considerazione gli autori giuristi di cui la stampa si è impadronita proprio al suo sorgere quindi i grandi giuristi medievali che hanno avuto prima una diffusione manoscritta ovviamente e solo dalla metà fine del XV secolo una tradizione a stampa io credo che anche nei vostri corsi abbiate potuto dare qualche volta uno sguardo alle stampe antiche quattrocentesche o soprattutto cinquecentesche dei libri giuridici e quindi li avrete presenti libri di grande formato libri pesanti con grandi margini che servivano ad appuntare delle glosse ordinariamente stampati su due colonne ricchi di abbreviature naturalmente e soprattutto ricchissimi di allegazioni legali i libri di diritto che hanno fatto anche la fortuna dell'editoria ai suoi inizi perché a leggere quei libri erano soprattutto gli studenti e gli studenti erano soprattutto studenti giuristi c'erano anche i teologi ma erano le università sono si sono organizzate sono nate si sono diffuse come modello nuovo di istruzione attorno alle scuole di diritto quindi qui abbiamo testi che vanno dalla glossa di Accursio a Kelsen anzi più in là più in là qui c'è un indice più in là di Kelsen arrivano fino fino a Olive Crona Ross Kelsen e ancora Weber naturalmente Schmitt Santi Romano insomma il novecento il novecento giuridico dal tredicesimo secolo il novecento giuridico centocinquanta libri vi sembreranno anche pochi centocinquanta ma sono i classici i grandi capolavori della della scienza giuridica della cultura giuridica tra questi centocinquanta naturalmente non c'è Hobbes perché non era un giurista anche se forse io che pure non ho mai avuto un grande trasporto per Hobbes una scheda su Hobbes l'avrei inserita perché a partire dall'ottocento che lo si voglia o no diventa oggetto di riflessione da parte della filosofia giuridica da parte della scienza del diritto pubblico ma tra questi centocinquanta certamente c'è Baudin i curatori di questo testo che vi sconsiglio si può dire vi sconsiglio di tentare di acquistare perché è costosissimo ma vi consiglio di andare a consultare in biblioteca se lo vorrete è fatto di centocinquanta schede di questi grandi classici una mi è stato chiesto di scriverla ed è proprio quella che riguarda Baudin quindi voi troverete c'è la scheda? no c'era qualcosa che disturbava troverete una scheda che riguarda questo testo questo testo però nella scheda che è la numero 35 che non vi sarà difficile ritrovare e che non dovrebbe essere difficile nemmeno a me ritrovare in questo momento ci sono il testo è intitolato in francese cioè non De Repubblica ma La Repubblica anzi Le Six Livres della Repubblica i Sei Libri della Respubblica Respubblica tradotto in francese perché il testo di questo signore che si chiama Jean Baudin esce per la prima volta in francese nel 1576 in una data fatidica e in un periodo di tragica complessità per le vicende della storia politica religiosa della storia sociale europea un periodo di grandi sommovimenti un periodo di torbidi non tanto di rivoluzioni la rivoluzione inglese è di là ad avvenire e la rivoluzione tedesca si è già compiuta ma il come dire l'eco e le conseguenze della rivoluzione tedesca della rivoluzione religiosa della riforma travolgono gli stati europei tra i quali la Francia in primo luogo prima di giungere in Inghilterra prima di lambire per così dire l'Italia mentre non lambiscono affatto se non proprio in modo assolutamente marginale grandi monarchie come la Spagna 1576 un testo giuridico che si stampa in una lingua volgare in francese questa è una rivoluzione dal punto di vista culturale l'uso del volgare nella nella letteratura giuridica è rarissimo quando i giuristi usano il volgare volgare italiano o il volgare francese o il volgare inglese lo fanno in relazione soprattutto al diritto proprio particolare al diritto locale al diritto consuetudinario ma anche in quel caso quando si occupano di statuti di consuetudini il loro linguaggio resta il linguaggio scolastico aulico il linguaggio che si usa nelle aule universitarie la lingua latina il latino scolastico che si usa nell'insegnamento universitario ora per la prima volta in quell'anno appare un testo di diritto pubblico anzi una specie di sistema del diritto pubblico in volgare destinato cioè ad una lettura che va al di là delle aule universitarie dichiaratamente al di là delle aule universitarie qui io ho portato una delle prime edizioni del testo è un'edizione originale e l'edizione vedete i libri si posavano così sugli scaffali non come facciamo noi per dritto ma in questo modo il nome dell'autore si scriveva proprio qui i libri giacevano di piatto uno sull'altro negli scaffali questa è la seconda edizione del testo edizione originale se volete poi se avete curiosità venite a vederla 1580 quattro anni dopo la prima edizione c'è questa bella seconda edizione pubblicata a parigi dallo stesso editore 1580 con un testo in scrittura fittissima e con accanto ancora delle glosse le glosse rimandano alla letteratura giuridica tradizionale mentre il testo è in francese in un francese moderno e tratta dunque in una lingua moderna in una lingua popolare in una lingua accessibile a tutti i grandi problemi del diritto pubblico che fino allora erano stati trattati solo episodicamente frammentariamente in latino qui invece c'è il tentativo di dare un sistema al diritto pubblico un sistema un tentativo forse in quel momento non del tutto riuscito ma che pone le basi per la sistemazione del diritto pubblico come una scienza autonoma all'interno della scienza giuridica è l'origine veramente di un nuovo mondo di un nuovo moto di cultura ma è in francese e pensate che si tratta di un francese nel momento in cui la lingua francese non è ancora strettamente normata se voi leggete il testo ve ne accorgete subito perché trovate non solo le abbreviature tipiche dei testi giuridici ma trovate che non esiste la i lunga al posto della i lunga c'è una i quindi trovate scritto anziché je i e anche se si leggeva je naturalmente ma trovate dei nessi che poi sono scomparsi nella lingua e così via ma siamo vicini agli anni in cui il francese ottiene una sua come dire definitiva normazione la fine del 500 gli inizi del del 600 1576 l'autore è un giurista che in quel momento ha circa 46 anni era nato fra il 29 e il 30 non lo sappiamo con esattezza forse non lo sapeva neanche lui non perché come dire non avesse memoria ma perché al tempo erano pochi quelli che potevano dire con certezza il giorno della loro nascita Erasmo non lo sapeva Lutero probabilmente neanche Calvino nemmeno non esisteva l'anagrafe che è una è un'invenzione napoleonica dello stato moderno è solo a partire dal concilio di Trento e dalla circolazione e recezione dei decreti del concilio di Trento che nelle parrocchie si comincia la registrazione dei battesimi e quindi pressa poco si può stabilire la data di nascita in Francia tra l'altro i decreti del concilio di Trento prima di essere ricevuti ed applicati ce ne mettono di tempo la Francia in cui nasce Baudin è una Francia ancora abbastanza pacificata post-riforma la riforma in Germania scoppia nel 25 Baudin nasce tra il 29 e il 30 nasce ad Angers una bella città ma va a studiare una bella città del centro nord della Francia cioè della Francia di Dois Coutumier di diritto consuetudinario ma va a studiare nella Francia di Dois Ecris di diritto scritto cioè di tradizione romanistica in uno dei centri principali degli studi giuridici di tipo romanistico della Francia del Cinquecento cioè a Tolosa a Tolosa città universitaria città di studi giuridici è città che in quegli anni comincia ad essere il centro di un rinnovamento degli studi giuridici su base umanistica è il centro più importante da cui si dirama un fenomeno molto importante di cui certamente nelle vostre lezioni si è parlato o si parlerà che è l'umanesimo giuridico cioè un profondo rinnovamento del metodo degli studi e del metodo stesso dell'insegnamento che fino allora si svolgeva sui testi del corpus iuris letti insieme alla glossa e disputati insieme agli studenti in quel momento invece l'umanesimo giuridico impone una revisione del metodo degli studi il tentativo di trovare cioè un metodo parola nuova che allora si diffonde parola greca che significa semplicemente un sentiero una via una via per giungere alla conoscenza del diritto in un modo diverso da quello tradizionale cioè in un modo virgolette sistematico il problema maggiore degli umanisti giuristi è quello del metodo del metodo quale metodo usare per non solo per leggere ed interpretare ma anche per giungere ad una conoscenza del diritto tutto non solo nelle sue parti e seguendo l'ordine giustinianeo che non era un ordine per gli umanisti Baudet studia in quel clima in quel clima a partire probabilmente dal 1548 un anno prima è morto Francesco I l'età di Francesco I in Francia è l'età del rinascimento in tutti i suoi significati è un'età di recezione di modelli italiani nell'architettura nell'arte e anche nella scienza l'umanesimo giuridico proviene dall'Italia e si radica in Francia Baudet studia a Tolosa per un certo momento dopo aver conseguito il dottorato insegna anche diritto romano oggi potremmo dire che aveva un incarico di insegnamento di diritto romano ma presto abbandona gli studi per dedicarsi ad una attività di pratico di avvocato però nel 59 1559 pubblica un testo particolarmente importante proprio per la storia del pensiero giuridico e della educazione giuridica un trattato sulla educazione dei giovani sulla educazione giuridica nello Stato in Repubblica de in Repubblica instituenda juventute del modo di formare i giovani nello Stato nel 59 nel 66 pubblica un testo importantissimo sempre in latino sul metodo la metodus parola che in latino è femminile la metodus ad facilem historiarum cognizione 1566 che tradotto alla lettera significa il metodo per una facile conoscenza della storia in realtà è un metodo per la conoscenza del diritto la storia c'entra perché è convinto che non si può conoscere il diritto senza conoscere la storia anzi conoscere il diritto vuol dire essenzialmente comparare comparare i modelli istituzionali del passato e del presente e il primo testo possiamo dire una specie di fondazione del metodo storico comparativo nel diritto il diritto si può apprendere soltanto nella comparazione sincronica il diritto nell'Inghilterra del tempo il diritto nella Polonia del tempo nella Russia del tempo e così via ma anche in comparazione diacronica non c'è solo il diritto romano giustinianeo c'è il diritto romano classico che si può conoscere solo leggendo gli storici e non i frammenti depositati nel digesto e c'è il diritto degli ebrei c'è il diritto dei greci il diritto dei persiani il diritto degli arabi bisogna conoscere tutte le forme che storicamente si sono date nell'ambito del diritto un progetto ambiziosissimo il libro ha una grande circolazione e diffusione ma resta appunto l'opera di un erudito in latino un giurista che scrive in latino sono tempi dicevo prima calamitosi nel 1561 c'è l'editto di tolleranza che ammette nelle chiese il culto riformato insieme al culto cattolico e l'hanno appresso nel 62 scoppia la guerra civile guerra religiosa e guerra civile in Francia una guerra che coinvolge la monarchia del tempo fino al punto che nel 72 come penso tutti sappiate a Parigi c'è quell'episodio che è uno dei più sanguinosi della storia moderna europea della strage dei riformati degli ugonotti nel giorno di San Bartolomeo anzi nella notte di San Bartolomeo del 1572 la casa regnante che è quella dei Valois che in quel momento ha come dire un re molto debole dominato da una regina madre da una reggente particolarmente invece volitiva e feroce un'italiana Caterina De Medici che introduce nella politica francese diciamo elementi ecco che la Francia del tempo comincia a considerare come nefasti e originati da un indole che è quella italiana più che francese gli italiani cominciano a non godere più di buona fama da quel momento in Francia anche se i francesi in tempi recenti hanno sopportato molto volentieri di avere una premier dam non so come la chiamino loro ma credo che la chiamino così italiana no? Sarkozy forse non aveva grandi doti però ha avuto l'intelligenza di sposare un'italiana un'italiana intelligente e anche molto bella come tutti sanno la guerra civile è spaventosa perché divide la Francia in due si creano dei partiti il partito cattolico e il partito riformato le fazioni non dividono semplicemente due confessioni ma dividono veramente la società francese dividono le famiglie come qualcuno dirà in quegli anni dividono la moglie dal marito i figli dai genitori è una scissione tragica che coinvolge appunto la monarchia nasce però un partito che tende a mediare un partito che assume un nome caratteristico quello dei politik dei politici perché sono soprattutto giuristi che predicano che lo Stato debba essere estraneo alle contese religiose e soprattutto sostengono che lo Stato non può la monarchia non può imporre il credo religioso è una prima istanza non solo di tolleranza ma di libertà religiosa attraverso l'idea che appunto lo Stato è una creatura artificiale che ha potere sulle relazioni esterne degli uomini ma nulla può contro la coscienza la coscienza resta libera libera di credere o di non credere e di credere la religione che vuole a capo di questo partito c'è il fratello cadetto del re di Francia Enrico III che è un personaggio dispotico si chiama Francesco Dallanson il teorico che lo ispira è proprio Baudin Baudin da avvocato della Corte di Parlamento a Parigi diventa l'ispiratore di una politica di pacificazione nazionale attraverso questa idea della estraneità necessaria del potere politico e dello Stato alle questioni di coscienza e di religione questa idea è quella che Baudin introduce nel suo libro più importante La Republique che esce appunto nel 1576 quattro anni dopo la strage della notte di San Bartolomeo ed è un testo quindi che affronta il problema dello Stato lo definisce lo definisce in termini di dottrina giuridica e della sovranità che è definita per la prima volta in modo nuovo e nei termini di una dottrina giuridica Stato e sovranità che sono appunto i due termini attorno ai quali si dipana il libro che oggi dobbiamo presentare Stato e sovranità ma non solo Stato e sovranità il libro affronta il problema della definizione dello Stato il problema della definizione della famiglia come istituto di diritto naturale accanto allo Stato come istituto artificiale di costruzione tutta storica tutta umana tutta politica affronta il problema della libertà personale il problema della cittadinanza il problema dell'esercizio del potere della sua legittimità il problema della relazione tra stati e quindi problemi che oggi chiameremmo di diritto internazionale in pace e in guerra e ancora tanti altri problemi per esempio il problema delle finanze il problema del censo e della censura di cui si è tanto occupata la vostra professoressa qui Lucia Bianchin il problema della dell'ordine stesso della società e dello stato insomma problemi cardine del diritto pubblico ma in modo appunto organico o con un tentativo di organicità l'ultima parte del libro è tutta dedicata alla giustizia e al problema della giustizia e dell'esercizio della giustizia Baudet è convinto che lo stato nella sua stessa definizione non possa essere separato dall'idea della giustizia come finalità dello stato lo stato è un'organizzazione artificiale che nasce per assicurare la giustizia la definizione famosa è quella dello stato come governo retto quindi come governo giusto come governo giusto che si esercita su più corpi su più famiglie e su tutto ciò che è loro comune comune dunque uno stato che è un'organizzazione artificiale che esercita il suo potere con giustizia e dunque nel rispetto non solo delle forme del diritto positivo ma nelle forme di un diritto che è ultra positivo su corpi sociali non su individui come sarà poi in Hobbes ma su corpi sociali il più importante dei quali è la famiglia perché la famiglia è un per Baudin continua ad essere come nella tradizione giuridica medievale una società naturale una società naturale lo stato non è altro che l'insieme di più società naturali di più famiglie che esercita il suo potere su tutto ciò che è comune su tutto ciò che è pubblico diciamo che per Baudin lo stato è quello che ancora oggi noi possiamo chiamare lo spirito pubblico lo spirito pubblico a questo spirito pubblico l'autore dà il nome di Republique che non significa ancora Repubblica nel senso che noi oggi diamo al termine cioè nel senso di forma di Stato o forma istituzionale repubblicana ma è una trasposizione nella lingua francese del termine romano e ciceroniano soprattutto res publica res publica come res populi no? res publica tutto il libro in francese è uno sforzo di traduzione in termini moderni di concetti e di espressioni del latino giuridico non solo Republique res publica ma tante altre espressioni ma il termine Republique ha un grande successo pensate che durante la rivoluzione francese quando uno dei grandi pensatori della rivoluzione che è Condorcet decide di pubblicare per la cultura popolare una collana di testi classici intitolando la Bibliothèque de l'homme public biblioteca dell'uomo pubblico il primo testo che si pubblica nel momento della rivoluzione 1789 1790 è la Republique di Baudin i francesi del tempo naturalmente cominciano a dare al termine Republique un altro significato ma la parola viene da qui viene dalla francesizzazione di un termine latino che significava qualcosa che noi chiamiamo Stato o se volete cosa pubblica e meglio ancora spirito pubblico lo spirito pubblico lo Stato non è altro che lo spirito pubblico rispetto all'interesse privato rispetto alla cosa privata al dominio privato degli interessi privati Oden ridefinisce tutta una serie di concetti che sono propri della tradizione giuridica definizione dello Stato definizione anche della sovranità anche la parola la sovranità entra nel linguaggio del tempo la adottano gli italiani che prima la conoscevano anche Dante usa l'espressione sovranità perché sovrano significava semplicemente soprano cioè quello che sta al di sopra ma la parola non aveva ancora il significato che avrà con Baudin Baudin definisce la sovranità come il potere il potere perpetuo e assoluto che è proprio di uno Stato legando insieme quindi sovranità e Stato come due termini che rimandano l'uno all'altro non c'è Stato che non abbia sovranità e non c'è sovranità se non nello Stato per esempio per lui nell'impero non c'è la sovranità o meglio se c'è non è la sovranità dell'imperatore perché l'imperatore è eletto da sette grandi elettori quindi casomai il potere sta nelle mani di quegli elettori se sovranità c'è è una sovranità di tipo aristocratico Baudin preferisce la sovranità di tipo monarchico diffida delle democrazie perché vede le democrazie italiane molto deboli incerte irresolute opta per la monarchia ma non per la monarchia to court ma per una monarchia che sia capace di governarsi democraticamente cioè distingue tra forme di Stato e forme di governo e ammette che possa esserci una democrazia di tipo tirannico o totalitario e una democrazia di tipo aristocratico oligarchico o una democrazia di tipo democratico così come può esserci una monarchia di tipo tirannico di tipo dispotico ma anche di tipo democratico forma di Stato che non coincide con una un esercizio del governo non so pensate anche ad esempio odierne la Spagna di oggi è una monarchia ma è una monarchia di tipo democratico abbiamo poi invece delle repubbliche potremmo dire hanno la forma di Stato tipica delle democrazie ma che oggi vediamo governarsi in modo dispotico se non addirittura in modo tirannico purtroppo gli esempi sono non mancano sono abbondanti e sono sotto gli occhi di tutti quindi un testo di enorme importanza ma un testo che resta scritto in francese e che circola in un ambito che è certamente quello di una nazione travagliata e divisa dalle lotte intestine e che ha bisogno di trovare un'unità e un ordine di tipo nuovo ma solo in Francia per questo nell'86 dieci anni dopo aver pubblicato la prima edizione francese e dopo che questa edizione è stata più volte rimaneggiata aumentata corretta Baudin pubblica un'edizione in latino un'edizione che tutti possano leggere tutti quelli che hanno naturalmente un'istruzione e un'educazione giuridica che permetta loro di leggere questo testo in tutta l'Europa civile 1586 il testo si diffonde quindi oltre la Francia una certa diffusione c'era già stata dove il francese era ancora la lingua dei giuristi voi credo possiate capire avendo letto anche il Berman dove questo poteva accadere dove il francese è ancora il francese giuridico è ancora la lingua dei giuristi l'Inghilterra la prima nazione a ricevere il testo francese di Baudin è l'Inghilterra dove il testo comincia ad essere discusso tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 quando Baudin fa un viaggio in Inghilterra insieme al suo protettore Francesco d'Alançon il fratello cadetto del re di Francia saprete anche perché il fratello cadetto del re di Francia va in Inghilterra no aveva in mente un obiettivo chimerico voleva voleva sposare Elisabetta prima voleva sposare Elisabetta prima obiettivo chimerico viene cacciato via avete visto quel film Elisabet eh vi ricordate c'è c'è quel come si chiama quell'attore quell'altro che aveva sposato una bella italiana Bellucci Cassel che fa la parte recita la parte di Francesco d'Alançon forse è un po' caricata lì è maleducato appena incontra la regina le dice delle frasi sconvenienti si traveste da donna insomma è un po' debociato come si direbbe è alquanto debociato poveretto muore prima del fratello che è che è il re di Francia e quando il re di Francia nell'89 viene assassinato la crisi della Francia precipita fino al punto che il capo stesso della Lega protestante che è Enrico di Navarra sale al trono dopo essere stato perdonato per la seconda volta dal Papa come re di Francia Enrico IV Enrico IV nel 1594 non ama i sostenitori di uno stato mediatore Baudin cade in disgrazia naturalmente e muore forse di peste nel 96 nel 96 ma avendo già visto la diffusione del suo testo l'edizione latina non è soltanto una traduzione in latino è un rifacimento totale del testo in cui Baudin si sforza di usare di nuovo il latino dei giuristi ma conservando la novità dei concetti che sono stati ormai coniati nella Repubblica francese questa è l'edizione francese questa è solo una edizione anastatica ma è l'anastatica dell'ultima edizione francese dell'83 che conserva il formato dell'edizione originale e questa invece è l'ultima edizione latina De Repubblica Libri Sex appunto l'edizione ultima no mi sono sbagliato e ho preso un altro volume anziché l'edizione ultima ma è un'edizione ugualmente molto importante perché nel 1591 esce a Francoforte presso un editore che si chiama Weichel 1591 proibito in Italia il Papa la congregazione dell'Indice istituita per soccorrere il Tribunale dell'Inquisizione Romana condanna il libro non lo condanna solo ad essere corretto ed espurgato ma lo condanna totalmente ad essere distrutto è un libro proibito proibito nei paesi cattolici smette di circolare anche in Francia ma trova ospitalità nella Germania riformata i tedeschi lo adottano come un ottimo libro di diritto pubblico anzi come una sorta di manuale di diritto pubblico in Germania si stampa fino al 1640 quindi siamo oltre gli anni in cui scrive Grozio siamo vicini agli anni in cui Hobbes comincia a scrivere se ne fanno addirittura delle sintesi degli abregè c'è un teologo e giurista luterano che si chiama Verdenagen che pubblica una sinopsis una una sintesi di questo testo a mo' di catechismo con domande e risposte che cos'è lo Stato Baudin dice che lo Stato è che cos'è la sovranità che cos'è la cittadinanza insomma le origini della scienza del diritto pubblico in Europa sono legate a questo testo che cosa ha fatto Anna Di Bello intorno a questo testo il suo libro è l'ultimo di una serie di sforzi di lettura e di comprensione di un testo difficile difficile perché moderno ma ancora legato alla tradizione che si dispone tutto attorno in forma di glossa a queste pagine quando alla fine degli anni 50 del secolo scorso si tentò di fare una traduzione italiana del testo vennero fuori questi tre volumi questo è il testo nella sua dimensione originale e questa è l'edizione italiana tre volumi l'edizione fu cominciata da Margherita Isnardi Parente per suggestione di grandi storici come Arnaldo Momigliano come Federico Chabot e si interruppe con il primo volume nel 1964 quando io avevo 13 anni e nessuno di voi era ancora non solo al mondo ma forse neppure nell'immaginario o nell'immaginazione di chi vi ha messo al mondo si interruppe nel 64 con la pubblicazione dei primi due libri della Repubblica e fu ripresa da chi vi parla per volere della stessa Isnardi e di un altro grande storico che si chiamava Luigi Firpo soltanto alla fine degli anni 70 dopo che mi ero già esercitato nell'edizione di Bartolo e di tante altre cose medievali che erano necessarie per capire quest'autore e quindi questo secondo volume uscì nell'88 quando ero già arrivato a Trento da un anno e il terzo soltanto nel 97 in coincidenza diciamo con il centenario di Baudin qui dentro il testo è tradotto in italiano sulla base delle edizioni francesi ma tutto il seguito dello sviluppo del testo nell'edizione latina è disposto nelle note e ogni fonte naturalmente è esplicitata ma ciò non basta a comprendere interamente il contenuto di questo testo la dottrina continua ad esercitarsi attorno a questo testo perché il testo non è per nulla semplice per nulla posso solo ricordare che la scienza del diritto pubblico europeo proprio negli anni della crisi della Repubblica di Weimar e dell'avvento dei regimi totalitari in Europa attorno a questo testo ha discusso moltissimo Kelsen naturalmente lo conosceva molto bene Schmidt lo conosceva molto bene ma l'autore che più di tutti ha fatto per riproporne una lettura in termini storico dottrinali è stato Herman Heller un grande avversario sia di Carl Schmidt sia di Hans Kelsen Heller pensava che sbagliassero tutti nel considerare il testo di Baudin come un testo come dire fondatore di una visione autoritaria e assolutistica della sovranità e invece ne sottolineava fortemente gli aspetti costituzionalistici costituzionalistici la sovranità di Baudin non è affatto un potere illimitato assoluto per Baudin vuol dire legibus solutus così come voleva dire nella tradizione romanistica cioè giuridicamente non vincolato per Baudin il sovrano infatti è essenzialmente il legislatore un legislatore che ha nelle sue mani il diritto positivo non certo i principi indisponibili del diritto naturale e nemmeno del diritto sovranazionale ma che nell'ambito del diritto positivo ha il potere di emanare e proclamare la legge come imperativo Baudin è all'origine della concezione normativistica o se volete imperativistica del diritto quindi un momento di passaggio particolarmente importante nella storia della cultura giuridica e il libro della di Bello ricostruisce intanto la storia di questo testo una storia complicata complicata sia nel passaggio da un'edizione francese all'altra sia nel passaggio dalle edizioni francesi alla latina dove ci sono delle rimeditazioni dei cambiamenti dei cambiamenti che arrivano fino in fondo al volume a citare quel leviatano di cui poi Hobbes si impadronirà come concetto di uno stato organicistico secondo una nuova versione dell'organicismo ma di tipo organicistico e individualistico per Bauden il leviatano resta un'immagine demoniaca del potere Hobbes ne rovescia il significato ma i due autori sono naturalmente molto a contatto dicevo 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 ieri ad Anna Di Bello che mi rimproverava di aver detto che che Hobbes era bruttissimo sia dal punto di vista fisiognomico sia dal punto di vista concettuale scherzavo ma non tanto che se quest'anno non ho potuto farlo ma ero in procinto di fare un seminario che si intitolava il leviatano di Bauden Bauden Leviathan lo farò in futuro e avremo modo di discuterne ancora io l'ho fatta lunghissima ma mi era stato chiesto di introdurre la discussione sul libro dando elementi di conoscenza che la maggior parte di voi sicuramente non possiede perché non è ancora come si dice scolasticamente arrivata a studiare questo momento della storia giuridica europea e mondiale ma badate che si tratta veramente di un momento cruciale è il momento appunto della nascita della modernità giuridica con i suoi aspetti positivi ma anche con i suoi aspetti negativi con il sacrificio di una gran parte della tradizione giuridica ma con il salvataggio anche di una gran parte della tradizione giuridica un momento determinante e che insomma giunge poi fino a noi ecco che abbiamo ereditato quanto c'era di buono ma anche quanto c'era forse di meno buono in quella tradizione io non dico altro lascio la parola a Lucia Bianchin e a Cristian Zendri prima di dare la parola all'autrice che è la sola a conoscere veramente il libro che ha scritto noi siamo i lettori io quel libro l'ho anche prefato come si dice ho scritto una prefazione una prefazione che era per me l'occasione per continuare a dire qualcosa su questo autore non semplicemente per dire qualcosa sul libro così come la presentazione di oggi è l'occasione che hanno gli studiosi gli studenti che si riuniscono in un'aula per continuare a riflettere grazie al libro di un autore che cerca di portare avanti una conoscenza di fare un passo ancora avanti nella conoscenza di un testo particolarmente difficile particolarmente difficile ma non tanto che non si possa continuare a studiarci sopra qualche mese fa si è laureato qui un giovane che ha avuto la temerarietà all'ardire di tornare a studiare l'ultimo capitolo del libro sesto quello sulla giustizia Lorenzo Gelardi che adesso è a Londra in mezzo al Brexit quindi non so che cosa stia facendo ma ogni tanto scrive sembra che se la cavi ecco allora cominci tu va bene grazie grazie di questa bella lezione su Baudin grazie soprattutto Anna Di Bello per essere qui con noi oggi a discutere il suo libro oltre che ieri con la sua lezione sui sul problema dei corpi della della formazione organicistica dello Stato e temi che ritornano anche poi nel suo libro su Baudin il libro di Anna Di Bello che presentiamo oggi si occupa di aspetti centrali del pensiero giustpolitico Baudiniano su cui come ha già detto ampiamente il professor Quaglioni è sempre interessante tornare perché segnano un importante momento di passaggio una fase di transizione nella storia della tradizione giuridica occidentale da un'età medievale o comunque premoderna con Baudin in qualche modo si entra nella modernità e ci si entra proprio attraverso i concetti i Baudiniani di Stato e di Sovranità su cui si concentra questa indagine di Anna Di Bello si tratta di due concetti importanti con i quali per la prima volta Baudin definisce in modo ormai compiuto un complesso di condizioni storiche in gran parte nuove in cui viene a trovarsi la Francia in prima linea ma in realtà un po' tutta l'Europa del tempo è la situazione in cui viene a trovarsi l'Europa nella seconda metà del Cinquecento a seguito della frattura di quella precedente unità spirituale e culturale che l'aveva connotata fino ad allora per molti secoli durante il Medioevo e che si fondava possiamo dire forse sinteticamente su un altro modello di sovranità cioè sul potere supremo e indiscusso delle due grandi coordinate universali rappresentate dall'Impero e dal Papato ecco quell'unità spirituale e culturale che caratterizzava l'Europa tardo medievale negli anni settanta del Cinquecento quando scrive Baudin si sta ormai sgretolando da molti punti di vista sul piano religioso c'è stata la riforma protestante con tutte le sue conseguenze anche di ordine giuridico politico dalla delegittimazione della Chiesa Cattolica e del Papato in vaste aree d'Europa che aderiscono alla riforma alle terribili guerre di religione che cambiano letteralmente il volto dell'Europa della prima modernità fra il Cinque e il Seicento tutto ciò contribuisce potentemente ad accelerare quel processo di formazione degli stati nazionali o stati territoriali in area tedesca che era già iniziato da tempo ma che arriva a questo punto ad una vera e propria svolta imponendo un ripensamento su vasta scala di molti concetti e categorie del diritto pubblico a questo processo di affermazione degli stati moderni si lega tra l'altro sul piano linguistico una rivalutazione dei dialetti volgari e in prospettiva delle diverse lingue nazionali e come ha accennato già Diego Quaglioni poco fa sempre più spesso cominciano a fare ingresso d'ora in avanti anche nel discorso scientifico cioè nel dibattito dottrinale giuridico e politico lingue nazionali che cominciano a sostituirsi qua e là al latino che era stato la lingua unitaria della cultura e anche in particolare del diritto dotto del diritto romano del diritto canonico del diritto comune in modo fino a quel momento indiscusso e incontrastato ed ecco che anche Bob Dan scrive la prima edizione di questo suo lungo discorso sullo Stato in francese una scelta che non è dovuta solo ad un'attenzione per il lettore francese ma è il segno di un'epoca che sta cambiando peraltro il cambiamento dei tempi soprattutto sul piano della lingua scientifica non è certo né rapido né un riforme nell'Europa moderna per tutta una serie di motivi in gran parte Deovi e perciò Bob Dan stesso tiene ad affiancare al più presto la Republique che esce in prima edizione francese appunto nel 1576 anche un'edizione in latino che darà le stampe dieci anni più tardi nel 1586 l'edizione latina della Republique dal titolo De Repubblica Libri Sex tradotto in italiano con i sei libri dello Stato secondo la scelta dei due curatori dell'edizione critica italiana Margherita Esnardi Parente Diego Quaglioni non può essere considerata come già accennato una semplice traduzione dal francese il libro di Anna Di Bello che procede attraverso un confronto sistematico fra passi bodiniani paralleli testo francese e testo latino a fronte oltre alla traduzione italiana in nota dimostra che l'edizione latina è il frutto di un imponente lavoro di ripensamento di integrazione e di revisione concettuale che impognò Baudin per una buona decina d'anni teso a perfezionare la sua opera e adeguarla al grande dibattito giuspubblicistico che iniziava a svilupparsi in quegli anni non solo in Francia ma anche nell'impero e in altre aree d'Europa un dibattito in cui la Republique di Baudin sarebbe rimasta al centro dell'interesse per molti decenni ed anzi secoli ancora questo dibattito europeo d'altro canto è non solo il punto di arrivo ma era stato già il punto di partenza della riflessione di Baudin se è vero che vari passaggi della Republique fanno intravedere un'originaria messa a punto dei concetti nella mente dell'autore verosimilmente proprio in lingua latina con un adattamento francese solo successivo stato e sovranità dunque due concetti strettamente legati non soltanto in questo libro di Anna Di Bello dalla prima età moderna infatti questi due concetti procederanno insieme nella scienza del diritto pubblico europeo dove solo di recente si è provato a rimettere in discussione la necessità assoluta di questa relazione ecco è proprio Baudin il primo a legare insieme questi due concetti facendo della sovranità il potere proprio dello Stato in quella sua celeberrima definizione del concetto di sovranità che recita per esteso la sovranità è il potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato siamo nel libro primo capitolo ottavo dedicato interamente al problema della sovranità in molti importanti studi di Diego Quaglioni sul problema della sovranità hanno ormai chiarito da tempo che Baudin noto anzitutto proprio come il teorico del moderno concetto di sovranità non inventò nulla egli non fece che utilizzare sia pure in modo originale uno strumentario già predisposto dalla dottrina premoderna la quale aveva già lungamente discusso del potere supremo la summa potesta summaiestas per usare il termine latino più adatto a designare quell'idea di sovranità propria di un sistema concettuale ancora tutto medievale provando a ideare una conciliazione fra le due opposte esigenze da sempre connaturate in ogni forma di comunità al potere di comando in ultima istanza da un lato l'esigenza di esercitare quel potere nel modo più libero ed efficace possibile l'istanza assolutistica che era già stata espressa a suo tempo dal passo di un piano princeps legibus solutus est di gesto 1331 dall'altro lato l'esigenza di contenere l'esercizio di quel potere supremo di vincolarlo al rispetto di un piano di norme sovraordinato rispetto al diritto positivo un piano di norme divino naturali per usare l'espressione dell'epoca e poter presentare così di quel potere supremo anche proprio per questa via come un potere pienamente legittimo siamo di fronte all'altra faccia della medaglia la cosiddetta istanza legalitaria che si contrappone a quella assolutistica e rinviene il suo principale appiglio autoritativo proprio nell'alex digna vox citata già ieri da Anna Di Bello una costituzione imperiale inserita a suo tempo nel codice giustinianè o codice 1 414 su cui la dottrina giuridica medievale aveva costruito quella che Quaglione ha definito una sorta di costituzionalismo medievale l'ex digna vox dice letteralmente è espressione degna della maestà del regnante che il principe si professi vincolato alle leggi infatti proprio dall'autorità del diritto dipende la nostra stessa autorità ecco Baudin non rifiuta quel tentativo di conciliazione della dottrina premoderna rifiuta quel complicato compromesso e sceglie la via di un potere assoluto d'altro canto anche egli non può che riconoscere ancora le leggi di Dio e della natura come un limite invalicabile per il potere sovrano i tempi ancora lo impongono e non è questo l'unico limite della sovranità bodiniana ce ne sono anche altri come le leggi fondamentali del paese con il risultato che questo potere assoluto di bodin che ha come prerogativa somma il potere di legiferare cioè di dare la legge di stabilirla in base alla libera volontà del sovrano è quel che si qualifica appunto come una concezione volontaristica o imperativistica della legge si esplica in realtà in modo pieno nel solo campo della legge civile già nel campo della legge penale infatti una serie di limiti che discendono dal diritto divino naturale lega in gran parte le mani al sovrano ecco dunque che la radicale novità del concetto di sovranità bodiniano sotto questo profilo almeno si stempera e la teoria di Baudin si rivela in definitiva una rielaborazione non poi così eccentrica dell'idea di sovranità premoderna d'altra parte c'è anche un altro elemento di novità proprio di questa fase della storia europea che nella Republique si riflette in pieno il soggetto a cui è assegnata la sovranità non è più quel princeps che nel sistema concettuale medievale poteva identificarsi solo con l'imperatore il soggetto della sovranità ora diventa lo stato Baudin lo dice esplicitamente la sovranità è quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello stato e solo dallo svolgersi dell'argomentazione bodiniana che segue a questa affermazione si potrà desumere la precisazione che ad ogni modo il sovrano resta ancora per il momento una persona fisica cioè colui che rappresenta lo stato in sostanza il re il monarca considerata anche la preferenza netta di Baudin per la forma di governo monarchica con Baudin cambia dunque il soggetto della sovranità il quale non è più l'imperato riudex che dice il diritto facendosi mediatore della giustizia divina in terra come era per la dottrina giuridica tardo medievale il soggetto della sovranità diventa lo stato moderno con compiti non meno importanti ma aspirazioni assai più contenute uno stato sovrano la cui prerogativa somma è appunto il potere di legiferare lo abbiamo detto cioè di stabilire le leggi necessarie a mantenere la pace e l'ordine nello stato se possibile con un'azione di governo orientata al fine della giustizia e al rispetto delle leggi divino naturali dico se possibile perché come sottolinea più riprese la stessa Anna Di Bello anche quel capitolo conclusivo della Republique sulla giustizia armonica che corona il discorso sulla giustizia come fine dello stato rappresenta in fondo uno stato ideale non è certo lo specchio di quanto sta avvenendo in Francia o altrove insomma vero è che la condizione di un governo giusto è inserita da Baudin nella definizione stessa di stato la Republique si apre con la definizione lo stato è il governo giusto che si esercita con potere sovrano su diverse famiglie e su tutto ciò che essi hanno in comune fra loro libro primo capitolo primo della Republique vero è però anche che se la condotta di governo giusta poi di fatto non si desse nella teoria bodiniana il potere resterebbe pur sempre legittimo né contro un potere esercitato in modo ingiusto si prevedono dei rimedi efficaci direi che è proprio questo il punto cruciale del dibattito dottrinale intorno alla sovranità nella prima età moderna tutte le altre discussioni mi sembrano conseguenti o collaterali a questa il potere del sovrano può anche essere molto esteso ma se fosse sempre esercitato nei limiti di un governo giusto che rispetta le leggi di Dio e della natura il problema forse non si porrebbe il problema è proprio che bodin non garantisce affatto meglio sceglie di non garantire questa condizione essenziale perché un potere assoggettato a un controllo sulla conformità del suo operato rispetto a un ideale di giustizia inevitabilmente indeterminato e opinabile sarebbe a suo giudizio un potere troppo precario e debole inefficiente è costantemente sotto minaccia altri giuristi e pensatori politici del tempo a questa sorta di impunità del sovrano invece non si rassegnano attaccano Baudin e provano a costruire un modello di sovranità alternativo al suo è il caso ad esempio dei teorici della cosiddetta doppia maiestas o della sovranità divisa in gran parte ugonotti e calvinisti come gli autori delle vindice contra tirannos e altusius per citare solo le dottrine più note ricordate anche da Anna Di Bello nel suo libro questi autori costruiscono un modello politico e giuridico assai diverso da quello bodiniano in cui attraverso il recupero della tradizione costituzionalistica medievale fondata sulla lex digna vox integrata con elementi nuovi anche gius naturalistici la sovranità viene sdoppiata da un lato una maiestas personalis che è l'ordinario potere di governo trasmesso dal populus al princeps attraverso un contratto di mandato un mandato che è assolutamente vincolante questi sono tutti giuristi sono giuristi umanisti e l'idea di un libero mandato non possono proprio concepirla dall'altro lato una maiestas realis una maiestas realis che designa la titolarità piena della sovranità una titolarità che compete sempre e comunque al populus inteso come la comunità politica nel suo insieme ecco qui le premesse della configurazione di un diritto di resistenza al tiranno cioè al princeps che governa in modo ingiusto ma al di là delle differenze fra i vari modelli di sovranità alternativi a quello bodiniano ciò che contraddistingue tutti gli oppositori di Boden la scienza giuridica e politica europea fra 5 e 600 si schiera tutto intorno a questa questione mi pare il problema di riuscire a definire in modo più preciso i limiti del potere supremo e dare effettività a quei limiti anche in particolare attraverso l'istituzione di magistratura e di controllo che rappresentino la comunità politica e che veglino sull'operato di colui che governa con tutte le prerogative necessarie a contrastarne efficacemente l'eventuale azione illegittima anche attraverso un diritto di resistenza ho parlato finora dei concetti di sovranità e stato vorrei soffermarmi ancora in particolare su un altro tema importante affrontato da Anna Di Bello in questo libro è il problema della cittadinanza che lei esamina a partire dalla riflessione bodiniana sui corpi e i collegi che si sviluppa nella Republique fra il libro primo capitolo sesto e il libro terzo capitolo settimo un capitolo quest'ultimo libro terzo capitolo settimo aggiunto nell'edizione latina del 1586 e qui il confronto fra le due edizioni della Republique quella francese e quella latina diventa davvero essenziale come ci ha già anticipato ieri Anna Di Bello l'idea di una società articolata in corpi e ceti o al contrario quella di una società di individui isolati tutti uguali fra loro una società come l'ha definita ieri Diego Quaglioni individualistica in un certo senso atomizzata cioè senza legami interni rilevanti per il diritto pubblico oltre alla relazione diretta di ogni individuo con il potere centrale ecco l'idea del modo in cui è organizzata una società è sempre una premessa fondamentale di una teoria politica perché da quell'idea discendono poi molte conseguenze importanti anche in particolare sotto il profilo giuridico il diritto di una comunità politica ne segue la struttura a una società organizzata per corpi e ceti corrisponde un sistema giuridico pluralistico come anche il sistema di diritto comune in cui si riconoscono status giuridici diversi ovvero un complesso di diritti e di doveri diversi ad ogni individuo proprio in ragione della sua appartenenza ad un corpo o ad un altro mentre una società individualistica sul modello obesiano è la premessa perfetta di un sistema giuridico basato essenzialmente sul diritto positivo sulla legge del sovrano secondo un modello politico e giuridico che definiamo comunemente assolutistico ecco anche la questione del modello di stato mi pare emblematica del ruolo che occupa Bauden nella tradizione giuridica occidentale sul crinale fra due età diverse in un certo senso come spartiacque per usare un'espressione di Diego Quaglioni fra una tradizione giuridica precedente che Bauden conosce perfettamente e che ancora in gran parte segue e d'altro canto anche però qualcosa di importante che rispetto a quella tradizione comincia ormai a cambiare Anna Di Bello spiega in modo molto circostanziato che il modello attraverso il quale si costruisce la società per Bauden è ancora il modello aristotelico o aristotelico cristiano cioè quello di uno stato che si forma per gradi per aggregazioni via via più complesse di corpi inferiori a partire dalla famiglia la comunità naturale più elementare per procedere con i corpi e i collegi che sono già comunità civili ed arrivare via via fino allo stato con il risultato di uno stato che è descritto da Bauden proprio come l'unione di più corpi e comunità stretti insieme dal vincolo del potere sovrano come scrive Bauden nel libro terzo capitolo settimo per collegio si intende l'associazione legittima di tre o più persone della stessa condizione per corpo si intende l'unione di più collegi per università la moltitudine consociata di tutte le famiglie i collegi e i corpi della stessa città unita da una legge comune rispetto all'università lo stato è in più la caratteristica di proteggere con potere sovrano la moltitudine di tutti i cittadini e di tutte le città dunque siamo qui ancora lontani dal modello obesiano di società dicotomico che separa e contrappone una condizione di natura come ci ha spiegato ieri Anna Di Bello una condizione di natura senza legge senza stato senza potere sovrano contrapposta appunto alla società civile o politica che sorge invece da un contratto sociale e che istituisce appunto la legge il potere sovrano e lo stato che non riconosce più alcun ruolo a quella formazione sociale intermedie i corpi i collegi le università e assoggetta invece tutti gli individui resi ormai uguali fra loro ed eguali di fronte alla legge e però al tempo stesso anche isolati e assai più indifesi ad un unico potere centrale di stampo davvero assolutistico ma c'è in realtà molto di più come considerava già Diego Quaglioni in alcuni suoi studi precedenti a questo libro Baudet non si limita in quell'importante capitolo della Republique dedicato ai corpi e ai ceti a riconoscerli come formazioni sociali importanti e gli assegna loro un autentico ruolo costituzionale descrivendoli come un fondamentale meccanismo interno che garantisce il buon funzionamento dello stato nel suo insieme scrive Baudet non c'è niente di meglio in vista della forza e della coesione dei sudditi che l'istituzione di corpi e comunità queste articolazioni della società conformi all'ordine divino delle cose sono infatti estremamente utili per garantire l'unità della comunità politica nel suo insieme per mezzo dei vincoli che legano ciascuna parte alle altre e queste al sovrano come scrive ancora Baudet abbiamo detto che gli uomini proprio attraverso mutue consociazioni e compagnie arrivano alle alleanze e poi avere proprie forme di comunità stati corpi collegi per formare infine gli stati quali noi li vediamo ora questi ultimi non hanno fondamento più sicuro dopo quello che viene loro da Dio che l'amicizia è la benevolenza reciproca dei loro membri e tale amicizia non si può mantenere altro che con alleanze associazioni stati comunità corporazioni corpi e collegi domandarsi quindi se le comunità e i collegi sono parti essenziali dello Stato equivale a chiedersi se lo Stato possa reggersi senza amicizia quell'amicizia senza di cui neppure il mondo può sussistere per questa via Bodin arriva anzi a concludere poco dopo che abolire e vietare corporazioni e associazioni equivale a rovinare uno Stato e a farne una Barbara tirannide come commenta Anna Di Bello si può dire che nella teoria bodiniana dello Stato i regimi aristocratici e le monarchie legittime sono letteralmente tenuti in piedi dalla forza moderatrice di un certo numero di Stati corpi e comunità ben regolati la monarchia legittima in particolare non ha fondamento più sicuro che quello degli Stati del popolo i corpi e i collegi per esempio se c'è bisogno di imposte o di riunire le forze per la guerra lo si può fare meglio proprio per mezzo degli Stati del popolo e di ciascuna provincia città comunità dunque Baudin riconosce un ruolo fondamentale ai corpi e ai collegi e d'altro canto però inverte la prospettiva precedente questi corpi collegi università con i loro rappresentanti possono anche essere sul piano logico e storico una realtà che precede la formazione del potere sovrano ma dal momento in cui il potere sovrano ha preso forma a quel potere vengono decisamente assoggettati scrive Baudin nel libro terzo capitolo settimo ciascun collegio può poi avere diversi regolamenti statuti privilegi particolari e in genere la nostra definizione è che ogni corpo o collegio è un diritto di comunità legittima un diritto un diritto di comunità legittima che è però sottostante al potere sovrano dice letteralmente Baudin il quale prosegue chiarendo che la stessa parola legittima implica l'autorità del sovrano senza il cui permesso non vi può essere collegio e d'altra parte la necessità di una legittimazione da parte del sovrano non si limita solo alla loro possibilità di sussistenza questa necessità di legittimazione da parte del sovrano infatti come precisa Baudin si riferisce anche alla qualità dei collegi al luogo al tempo alla forma delle adunanze a ciò che si deve trattare in assemblea insomma questi corpi e collegi sono però nella dottrina bodiniana ormai assoggettati al potere sovrano e la loro azione appare piuttosto imbrigliata solo due parole ancora per concludere sul problema della cittadinanza Baudin nel relativo capitolo della Republique descrive l'articolazione interna del suo concetto di cittadinanza l'ordine più basso dei cittadini di uno stato è quello degli schiavi poco più in alto abbiamo i liberti e i vari stati degli uomini liberi i cittadini sono ripartiti a seconda delle diverse condizioni e del ruolo svolto all'interno della società sacerdoti senatori militari collocati secondo il grado giure consulti medici insegnanti mercanti e così via al di sopra di tutti ci sono i nobili disposti secondo il rango e al vertice ovviamente il re troviamo qui molte considerazioni interessanti relative a questa idea bodiniana di ordine politico giuridico come ad esempio il ragionamento sulla opportuna divisione dei cittadini in tre ordini clero nobiltà e plebe è la cosiddetta dottrina tricamerale molto importante per la storia francese successiva Anna Di Bello sottolinea che a differenza della gran parte della letteratura gius politica precedente bodin valuta qui con grande attenzione la possibilità di includere anche gli schiavi nel numero dei cittadini e alla fine propende proprio per questa soluzione è molto interessante questa scelta di bodin e sono interessanti anche le argomentazioni che lo conducono a fare questa scelta come spiega bodin abbiamo detto innanzi che gli schiavi sono esclusi dal numero dei cittadini per consentimento di pressoché tutti i popoli che anzi Aristotele tenne gli schiavi in conto di strumenti tutti gli altri li considerarono bestie o meno che bestie ed ancora è controversa la questione se gli schiavi siano in usufrutto per quanto mi riguarda se in questa disputa mi si concedesse il diritto e la facoltà di esprimere il voto desidererei che il diritto di cittadinanza fosse accordato agli uomini liberi del pari che agli schiavi che è infatti codesta temerità degli uomini per non dire in pietà tanto arrogante non solo da costringere dimentichi della condizione di uomo questo essere divino a servire al proprio capriccio o brobriosamente privato della libertà ma da volere pure che sia guisa di bestia o di peggior condizione ma pur ammettendo che gli schiavi siano uomini della più vile condizione forse che per questo non meritano il nome di cittadini segue la metafora organicistica che abbiamo già incontrato ieri nel corpo umano tutte le membra giocano un ruolo essenziale anche le membra più turpi e come nessuno mai penserebbe di amputarsene qualcuna per quanto meno nobile così pare assurdo pensare di tagliare via dalla città come scrive Baudet gli schiavi a guisa di membra putride anzi se vogliamo tenerli nella città nella famiglia nell'obbedienza si debbono pure far partecipi della cittadinanza e così senza dubbio essendo sudditi e non stranieri di necessità debbono far parte dei cittadini ed essere annoverati nell'ordine dei cittadini Anna Di Bello analizza questo punto seguendo alcuni spunti tratti da Pietro Costa e dai suoi studi sulla cittadinanza due schemi fondamentalmente di cittadinanza due schemi di cittadinanza concettualmente distinti uno in cui prevale una dimensione corporativista l'altro centrato sulla relazione sudditanza cittadinanza due dimensioni che nel pensiero bodiniano in realtà si integrano fra loro ciò che ne deriva è un ordine giuridico e politico da cui emerge un fondamentale principio per Bodeno universalmente valido la sovranità in particolare qui il potere sovrano se vuole esercitarsi su tutti deve anzitutto includere tutti il cittadino è un soggetto a cui si riconoscono dei diritti ma a cui di converso si impongono anche dei doveri le due cose diritti e doveri procedono di pari passo lo conferma anche il caso eccezionale dello straniero a cui anche Anna Di Bello più volte facendo lo straniero è presentato da Boden come colui che arriva da fuori un soggetto a cui si concedono spesso ampi diritti senza porre a suo carico grandi doveri in questo senso rappresenta una parziale eccezione rispetto a quello che abbiamo appena detto ma questa condizione non risponde tanto o comunque non risponde solo ad una logica di generosità o di filantropia risponde piuttosto alla logica di creare un rapporto un vincolo con un soggetto che consenta a lui di inserirsi ma anche allo stato di inserirlo all'interno di un ordine un ordine estraneo a quel soggetto ma che da quel suo momento in poi lui per primo ha l'interesse a rispettare per non perdere i privilegi che gli sono stati concessi in qualche modo donare per obbligare secondo quel meccanismo di inclusione esclusione studiato bene a suo tempo da Serrano Gonzales per cui chi è ai margini della società e non ha niente da perdere costituisce automaticamente il pericolo più grande per quella società e per quello stato e dunque proprio questo è il miglior modo di neutralizzare il pericolo e le incognite che rappresenta chi viene da fuori chi è nuovo ed è ancora troppo libero il contratto sociale è certo il modo migliore per creare un legame solido con chi fa stabilmente parte di una società ma come vincolare un estraneo uno sconosciuto con cui stringere patti sarebbe cosa lenta e difficoltosa il modo migliore come conclude Baudin è appunto quello di creare con lui un vincolo in modo rapido e quasi unilaterale riconoscendogli alcuni diritti e prerogative che egli per primo avrà poi tutto l'interesse a mantenere è un concetto in realtà di grande attualità ancora oggi grazie grazie avete avete ascoltato le cose che ci ha detto Lucia Bianchi non sono una attualizzazione in debita del pensiero di Baudin ma sono veramente la rappresentazione più fedele del suo pensiero e al tempo stesso la sottolineatura più forte dell'assoluta attualità di questi problemi fino al problema della inclusione dello straniero fin dei conti la cittadinanza per Baudin è proprio la condizione del soggetto libero che si pone sotto la sovranità altrui chiunque egli sia e da qualsiasi luogo profenga subito alla parola a Cristian Zendri bene grazie cercherò di essere abbastanza sintetico grazie ai colleghi grazie ad Anna Di Bello perché il libro di Anna Di Bello è importante perché si occupa di un'opera di un autore classici senza dubbio e lo fa con piena consapevolezza dei problemi che nascono a questo testo a partire dal rapporto l'abbiamo detto abbiamo sentito in più occasioni tra il testo latino e quello francese insomma un rapporto difficile perché in realtà si può dire che il testo latino pur edito dopo nasca logicamente prima nel senso che è dalla cultura latina dell'autore che germoglia il testo francese per cui in qualche modo il testo latino precede logicamente e culturalmente quello francese e questo Anna Di Bello lo mette bene in evidenza con un continuo raffronto testuale da cui risulta la fatica di creare un nuovo linguaggio e questo è evidente e assolutamente giusto ma credo che ci sia anche un'altra cosa cioè l'idea di tramandare non solo di costruire un linguaggio ma di tramandare una tradizione trovo a spiegarmi meglio certamente Baudin recupera da un lato dall'altra parte semplifica molti motivi tradizionali costruendo una dottrina nuova con materiale antico ma esprimendo tutto questo in francese quindi nella lingua volgare lingua parlata trasferisce nell'ambito della dottrina giuridica quegli sforzi che la monarchia francese in quegli anni stava compiendo per unificare dal punto di vista giudiziario amministrativo politico la Francia l'imposizione della lingua francese ad esempio come lingua degli uffici che è del 1539 una famosa ordinanza che lo dico soltanto così per inciso curiosamente anche la giurisprudenza francese di oggi considera ancora in vigore una cosa un po' strana nel mondo codificato della Francia ma soprattutto Baudin fa della tradizione giuridica e politica che fino a quel momento era espressa in una lingua che lo rendeva appannaggio di un ceto giuridico e professionale ben determinato con una distinta formazione il ceto dei giuristi appunto fa di questa tradizione il patrimonio di un pubblico più vasto che magari non potrebbe accedere a quella tradizione in latino per prendere in prestito un'idea di Francesco Calasso nella sua introduzione al diritto comune Baudin fa di una tradizione comune all'occidente nel senso di comune ai giuristi occidentali una tradizione comune particolare nel senso di comune a un popolo entro la tradizione giuridica e politica occidentale quindi quei dogmi quei concetti costruiti dai giuristi seppur nella loro peculiare interpretazione bodiniana sono trasferiti diventano patrimonio di un pubblico diverso insieme più vasto e forse più ristretto di quello per cui originalmente erano stati pensati e da cui erano stati pensati io avevo scelto un caso particolare per vedere tutto questo il caso della famiglia la famiglia è istituto di diritto naturale lo sapete benissimo non lo ripeto la famiglia diventa fondamento del pensiero gius politico bodiniano Bodin dà questa definizione di famiglia per governo domestico si intende il governo giusto che si esercita su più persone soggette allo stesso capo di famiglia e sulle cose che appartengono a questo la livello nota che questa definizione è costruita con qualche sfumatura sulla falsaria di quello dello Stato governo giusto esercitato con potere sovrano su diverse famiglie e su ciò che è comune fra loro ma ancora più importante per me forse è il modo in cui Baudin rende il termine latino famiglia lui usa la parola francese menage che viene dal latino manere mansio la proprietà personale di un uomo il manso il maso si direbbe da queste parti insomma è proprio evidente lo sforzo di tradurre di tramandare a cultura francese una nozione che viene da un'altra cultura quella di diritto comune l'altra parte la famiglia è molto di più che la cellula costitutiva della società è immagine dello Stato e questo in due sensi un po' come da puntista biblico è immagine esattamente come l'uomo immagine di Dio quindi non è lo Stato è un'immagine e Baudin che era un ottimo biblista queste cose le sapeva benissimo ma d'altra parte non poteva dimenticare anche un passo del Nuovo Testamento la prima lettera ai Corinzi in cui si dice San Paolo dice che c'è differenza fra vedere confusamente in uno specchio o vedere chiaramente faccia a faccia quindi se la famiglia è l'immagine dello Stato dobbiamo immaginare anche però che ci sia una certa differenza fra le due cose d'altra parte però la famiglia offre allo Stato qualcosa altro offre se la famiglia è unita armoniosa laboriosa offre la concordia la concordia della famiglia e la concordia dello Stato se lo Stato è recta moderatio lo è lo è soltanto se la famiglia è concordia unitaria e qui si entra anche in un altro problema che è quello del carattere patriarcale della famiglia la famiglia è la famiglia di Bode è una famiglia patriarcale senza dubbio è una famiglia in cui il pater esercita una sorta di sovranità in qualche maniera anche se in termini improprio non c'è la sovranità familiare sui figli e sui servi ma non è la famiglia né uno Stato in piccolo e lo Stato non è una famiglia in grande la cosa che a me interessa in realtà e qui taglio molto scusatemi è che la famiglia per Bode è un istituto naturale mentre lo Stato è una costruzione artificiale una costruzione dell'arte nasce quindi dopo la natura lo Stato nasce per mezzo della costruzione di un'amicizia tra famiglie è stato detto nasce perché viene all'esistenza qualcosa di comune della famiglia stessa qualcosa di pubblico lo spirito pubblico quindi c'è una dicotomia privato familiare e pubblico statale lo Stato non può esistere senza qualcosa che non sia lo Stato esattamente e la famiglia non può esistere senza qualcosa che non sia la famiglia in qualche modo potremmo dire è come se l'una fosse la condizione di possibilità dell'altra e questa è una cosa su cui credo bisognerà riflettere ancora qual è allora un'altra differenza importante e mi avvio a chiudere fra Stato e famiglia Anna Di Bello ricorda che questa differenza consiste nel differente oggetto del potere il potere del pater riguarda tutta la famiglia persone e beni il potere sovrano dello Stato si esercita sulle famiglie indubbiamente dall'esterno in qualche modo e su quei beni quei diritti che hanno in comune le famiglie fra loro da un certo punto di vista il potere del pater che non è sovranità è persino più ampio della sovranità perché riguarda l'intero ambito di esistenza mentre quello del sovrano risulta in qualche modo più esteso ma anche un pochino più limitato non tutto è del sovrano e questo è interessante perché significa che il carattere artificiale dello Stato e della sovranità in qualche modo proprio perché è artificiale assume anche un carattere limitato a differenza di quanto accadrà in altre visioni il potere è assoluto ma non nel senso che sia illimitato nel senso che non può essere autolimitato in qualche modo ed è perpetuo senza determinazione di tempo questo mi ha colpito moltissimo e qui chiudo veramente perché non molti anni dopo Baudin in un altro luogo dall'altra parte della Manica questo duplice carattere della sovranità sarà riaffermato con forza da parte di un giurista e giudice erede della tradizione giuridica occidentale contro un sovrano e legislatore sedicente erede e certamente volgarizzatore semplificatore radicalizzatore e pertanto anche un po' traditore della tradizione bodiniana penso allo scontro tra Giacomo I e Edward Koch in quel conflitto Koch ricordava il carattere artificiale della ragione del diritto nel senso che la capacità di interpretare il diritto non è frutto di ingegno naturale ma di studio di pratica tuttavia il presupposto del suo ragionamento non era solo questo egli affermava anche il carattere preesistente del diritto rispetto al monarca il fatto che il diritto era in certo modo la natura stessa del regno e quindi non poteva essere violato arbitrariamente da un uso disinvolto del potere regio da questo punto di vista e concludo il vero erede di Baudin non era Giacomo I che pure pretendeva di ispirarsi ai suoi principi ma Koch che dell'interpretazione di Baudin fatta proprio dal suo re era un acceso avversario e questo per me è un motivo di più per felicitarmi e felicitarci con Anna Di Bello perché ci ha fatto un bel regalo con questo libro e ancora uno più importante con l'accettare di parlarne con noi oggi grazie non possiamo commentare purtroppo e credo che dobbiamo dare subito la parola all'autrice perché se abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e la pazienza di stare qui pochi minuti ci dia la sua impressione rispetto alle cose che abbiamo detto qui intorno al suo libro Io ringrazio ovviamente il professor Quaglioni ma anche Lucia e Cristian per aver dato con le loro relazioni un'ottima delineazione non soltanto del pensiero bodegnano ma anche dei punti insieme di rotture e di continuità che io intendevo evidenziare nel mio testo anche perché il presupposto dal quale io sono partita era proprio quello di riprendere un testo che è fondamentale che come ha evidenziato Cristian e come ho scritto anche nel libro è tutt'altro è una semplice traduzione l'ha detto anche il professor Quaglioni ma in realtà l'edizione francese è lo sforzo di mettere in lingua volgare quello che Baudet in realtà avrebbe voluto scrivere in latino lui la vive in mente in latino ma data l'esigenza critica del suo stato decide di mettere a servizio il suo pensiero la sua esperienza di giurista in lingua volgare e ho deciso di farlo tramite appunto il De Repubblica perché come hanno detto eminenti studiosi di Baudet purtroppo Baudet è tra gli autori lo stesso Heller lo dice ma anche Ralph Gisi è uno di quegli autori meno letti e più citati cioè viene citato molto spesso attraverso una letteratura critica secondaria che riprende riformula e in un certo senso tradisce le fonti e invece il mio fine era quello di rendere nuovamente fruibile un testo latino e che confrontato a quello francese poteva dare il carattere sia di continuità ma anche di rottura di Baudet perché quando anche Lucia ha affermato che ci sono caratteri di modernità di Baudet ma di continuità col Medioevo mi viene in mente di sottolineare un elemento innovativo quello che può essere per un giurista come appunto Baudet che è quello della legge Baudet è tra i primi in realtà ad affermare che la legge è fatta dal sovrano è uno dei primi che non dice più la legge in senso medievale ma la fa è una legge ovviamente positiva che ha dei limiti rispetto all'Obs che abbiamo visto ieri ma è uno dei primi a dire che la fa mi premeva soltanto di dare una piccolissima risposta a un rilievo che aveva fatto Lucia parlando degli autori successivi a Baudet che riprendono il diritto di resistenza Baudet effettivamente parla di un diritto di resistenza minimo quando distingue il sovrano ab squetitulo e ex esercizi nel momento in cui il tiranno è un usurpatore che con qualsiasi inganno con qualsiasi forza violenza si è impossessato della sovranità e che quindi abbia violato in un certo senso l'ordine naturale gerarchico è per definizione è indefinibile come sovrano e quindi è punibile con la morte per legge lui così spiega nei sui libri della Repubblica in particolare poi anche nel testo latino ma è appunto uno stato come rilevava anche Cristian che però molto deve all'idea di famiglia c'è un'espressione importante che Cristian ha sottolineato per Bauden non c'è nulla di pubblico dove non c'è nulla di privato quella secondo me è l'emblema dell'importanza che Bauden dà al concetto di famiglia è in un certo senso come se le famiglie concedessero qualcosa di proprio per far sì che poi si costituisca lo Stato tant'è che poi il carattere artificiale di questa costruzione in un certo senso emerge in un piccolissimo passo che per alcuni è stato detto contrattualista ma secondo me non è corretto quando Bauden parla di una possibile lotta tra villaggi gruppi eccetera per cui poi è necessario un potere comune sono solamente queste le piccole risposte che volevo dare anche perché sono grata ai miei colleghi per questa occasione di discutere era questo il fine per cui ho deciso di riprendere il testo latino per parlare di un testo di un autore che altrimenti non sarebbe fruibile ovviamente il testo latino date le odierne tecnologie infatti c'è un appendice che ho messo nel testo è fruibile online però se nessuno introduce fa lo sforzo di portarvi nel testo far capire quali sono le modifiche gli ampliamenti i tagli le diverse fonti il diverso uso che viene fatto è inutile anche che ci siano tutti questi anastati che ormai possibili e fruibili attraverso google c'è sempre bisogno di una piccola guida e in maniera molto modesta ho pensato di cercare di guidare nuovamente in questo testo che altrimenti rimaneva nell'oblio bene grazie penso che non abbiamo più tempo temo che non abbiamo più tempo anche adesso abbiamo sentito delle cose che ci riportano direttamente all'attualità pensate alla discussione che si è fatta in tempi recenti molto intensa intorno al rapporto pubblico privato al rapporto diritto pubblico diritto privato e alla tendenza che oggi riemerge a considerare tutto il diritto come interno ad una dimensione pubblicistica un vecchio vizio che ritorna nella cultura giuridica odierna pensate appunto al diritto di resistenza che non è solo tipico del mondo medievale ma è tornato a emergere nella stessa discussione dell'assemblea costituente che preparava il testo della nostra costituzione del 48 quando l'articolo che prevedeva il diritto di resistere al comando ingiusto e al potere ingiusto redatto dal comitato per la costituzione dalla commissione dei 75 fu bocciato in aula nella discussione generale perché ritenuto principio rivoluzionario che non poteva essere incluso nel nuovo ordinamento anche qui ci sono dei problemi dei nodi dottrinali e no che si trascinano nel tempo in Bodin certamente si attenua quasi fino a negarsi il diritto di resistenza c'è una sua estrema marginalizzazione l'idea del tiranno ex defectu tituli Bodin la recupera direttamente da Bartolo ma appunto non è l'idea della resistenza fino al tirannicidio ma è semplicemente l'idea della condanna con mezzi legali di chi è semplicemente negatore di un ordine usurpatore di un ordine la preoccupazione maggiore di Bodin naturalmente è per l'esercizio tirannico di un potere legittimamente acquisito come al suo tempo appunto quello di Enrico III che non è un tiranno nel senso che non è un tiranno ex defectu tituli ma governa tirannicamente ed è questo il vero problema il vero problema è quello dell'esercizio ingiusto di un potere legittimo che è ancora il nostro problema problema nostro attuale quotidiano il problema più vivo e attorno al quale vigilare maggiormente dal punto di vista della scienza e della cultura dei giuristi grazie ad Anna Di Bello grazie grazie a Lucia Bianchin e a Cristian Zendri che sono intervenuti così efficacemente grazie ai colleghi e ai giovani colleghi che hanno seguito queste discussioni e io ancora una volta mi scuso perché il ritardo con cui abbiamo cominciato per mia colpa non ci consente di proseguire la discussione ma sono sicuro che proseguirà nell'ambito delle elezioni grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti